salve proprio youtube amici di shion io sono neo geo questo ecco dei dolfini e questa è la nostra nuova amica trelia siamo qui riuniti oggi per farvi un annuncio stiamo per tornare e torneremo con un evento molto molto particolare ovvero un evento in streaming non so se avete notato ma già da qualche settimana abbiamo provato a fare sul nostro canale qualche scalcinatissimo e ma proprio malandato esperimento di streaming che non è andato benissimo però è servito come sono stati eventi propedeutici per portarci appunto a questo evento questo evento sarà il martedì prossimo quindi martedì 29 sera e giocheremo un gioco in streaming ma non un gioco in streaming qualsiasi giocheremo a dark souls 2 certo perché tra qualche settimana uscirà dark souls 3 e visto che c'è tantissima gente che già sta già giocando su youtube a dark souls 3 noi siamo ovviamente in ritardo ovviamente non siamo mai sul pezzo e quindi giocheremo dark souls 2 scholar of the first si per la precisione questo evento però non sarà uno streaming normale perché giocheremo al gioco con una certa sfida perché tenteremo di andare avanti il più possibile non dico finire perché insomma i tempi sono quelli che sono ma cercheremo di andare avanti il più possibile con un personaggio a livello 1 cioè praticamente non li vedremo mai per tutta la durata del gioco o comunque dello streaming questo è un evento molto importante che sarà di apertura mi volevamo che fosse un evento simpatico e così coinvolgente per riaprire una nuova stagione di shiol che vi assicuro vi assicuro questa volta tornerà tornerà non so se meglio di prima o peggio di prima ma sicuramente tornerà torneremo a fare video con una certa cadenza non so dirvi ancora quale però sicuramente torneremo a fare video e intanto vi segnalo la nostra pagina facebook se non l'avete ancora visto la vedrete adesso ci sarà già l'evento per questo martedì vi aspetto numerosi sulla pagina facebook andatevi a iscrivere vi aspetto numerosi martedì 29 quindi fra pochi giorni e niente vi aspetto spero che siate numerosi spero vogliate stare con noi passate un po di tempo con noi e grazie ancora per averci ascoltato ciao e alla prossima